Info Point Manfredonia, appuntamento con Buono a Sapersi, una presentazione con annessa degustazione di un prodotto straordinario ed innovativo, in che cosa consiste? In un pestato di foglie di vite dell'azienda agricola di Barbara Santovito. Ai microfoni di Manfredonia News sono con la qui presente imprenditrice agricola, una bellissima donna qui accanto a me, Barbara Santovito. Perché appunto? Perché questa sera nel primo percorso degustativo Buono a Sapersi assaporeremo un gusto del tutto nuovo, un tratto del tutto nuovo, quello che la signora Pocanzi definiva uno scarto nell'agricoltura, cioè un piatto realizzato con pestato di foglie di vite. Ma ce lo spiegherà direttamente la qui presente è sottoscritta signora Santovito. Certo, quello che serviremo questa sera è un primo piatto condito con questa novità che è il mio prodotto, ovvero un pestato di foglie di vite, che è l'esperimento, il test che nasce quest'anno, quindi che stiamo promuovendo attraverso questi eventi e sono contenta di partecipare grazie a questa iniziativa di Gargano Experience qui presso l'Info Point di Manfredonia, perché appunto la volontà di valorizzare lo sforzo di noi produttori del territorio, che cerchiamo di cogliere nuove sfide, nel mio caso la sfida che ho colto è quella dell'agricoltura, dove appunto alla tradizionale produzione di uva da vino e da tavola si è aggiunta questa innovazione, un'innovazione sull'utilizzo delle foglie di vite che sono considerate uno scarto, durante i trattamenti vengono normalmente gettate a terra, quando invece consentono di essere utilizzate perché hanno delle proprietà nutrizionali e rappresentano una vera e propria farmacopea, quindi il desiderio di farle diventare un prodotto agroalimentare nell'ottica della sostenibilità, quindi la raccolta delle foglie sicuramente non trattate e selezionate dopo un processo di trasformazione vengono semplicemente conservate con olio extravergine di oliva e sale e vanno a rappresentare questo che è appunto il pestato di foglie di vite, che è una novità, quindi un prodotto nuovo dagli effetti salutistici che se inserito all'interno di una dieta mediterranea può avere un effetto positivo e benefico sulla nostra salute.